I tinerari da percorrere rigorosamente a piedi per scoprire luoghi e bellezze nascoste delle nostre città. Il 31 ottobre torna la giornata nazionale del trekking urbano, quest'anno alla sua undicesima edizione, che coinvolgerà da nord a sud 37 comuni italiani sul tema della Grande Guerra. Organizzato dall'Associazione Run Naples, a Napoli l'evento è occasione per immergersi nello stile libero, ed ammirare il patrimonio architettonico del primo novecento. Il 31 ottobre, cioè venerdì pomeriggio, presso la stazione Mergellina, scelta non a caso perché è piena di decorazioni Liberty, ci sarà appunto la registrazione dei partecipanti e la presentazione dell'iniziativa. E appunto la tematica di quest'anno è attraversare le vie napoletane del Liberty. Si parte sabato 1 novembre dal piazzale antistante la Certosa di San Martino e tra palazzi, villette ed edifici commerciali si va giù fino a Chiaia. Le passeggiate qui iniziano domenica 2 novembre, da Largo Vincenzo Pagliotti a Via Filangeri. Napoli è l'unica metropoli ad aderire, noi siamo molto contenti. È il terzo anno che Napoli aderisce a questa iniziativa e per noi costituisce veramente un antipasto di qualità e molto pregiato. Poi al grande evento di atletica che stiamo già organizzando, ci sarà in Mostra d'Oltremare il primo febbraio, appunto la mezza maratona internazionale, Mostra d'Oltremare Half Marathon. L'iniziativa è stata lanciata da Siena nel 2002 e sposata subito da diverse città italiane. Le passeggiate sono accessibili a tutte le età ed offrono un modo sportivo e piacevole di visitare il centro storico alla scoperta di luoghi sconosciuti e panorami mozzafiato.